Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 15 settembre, andiamo velocemente su tutti i titoli dei giornali di oggi. Una delle polemiche che già ieri sul sito nicolaporro.it abbiamo evidenziato è quella della lite tra Salvini e questo Hasselborn. Devo dire che mi ha molto stupito ieri un tweet di Ferrara, Giuliano Ferrara io ho lavorato per il Foglio, in cui diceva a grandissimo Hasselborn se tutti noi. Sostanzialmente questo ministro lussemburghese degli esteri e dell'immigrazione ha insolentito Salvini quando Salvini in un vertice europeo a Vienna spiegava il motivo per il quale non voleva più migranti in Italia, clandestini sostanzialmente. Il fenomeno lussemburghese gli spiegava che lui aveva accettato gli italiani, con un piccolo dettaglio che queste teste di minchia non capiscono, è che gli italiani hanno girato il mondo con permessi accettati, controllati per lavorare e nessuno immagino, e se così fosse sarebbe del tutto sbagliato, può immaginare un'Italia senza immigrati, ma senza clandestini invece sì. Gli immigrati sono fondamentali in qualsiasi paese del mondo, la circolazione delle merci e degli uomini è fondamentale, ma deve essere regolata, è del tutto evidente. Noi se vogliamo, nelle nostre case, nelle nostre fabbriche ci sono migliaia, centinaia di migliaia di migranti, ma la selezione avviene attraverso i barconi, bisognerebbe spiegarlo a questo signore Hasselborn, tanto amato dai nostri, diciamo, Ferrara e amanti dell'immigrazione, diciamo, e soprattutto, come possiamo dire, antipatizzanti nei confronti del governo Gello Verde, e bisognerebbe spiegare loro poi un'altra cosa fondamentale, e forse questo bisognerebbe farlo anche a Salvini, a Hug, Giorgio, e cioè che si tratta più o meno di un assessore di una media città italiana, questo Hasselborn, forse un po' più spocchioso, ma, insomma, è un... questa Europa per quale il ministro degli esteri di uno sputo di 100.000 abitanti possa avere lo stesso ruolo della Francia, della Germania, dell'Italia, beh, insomma, dà il senso di come in realtà un po' questa democrazia europea più che rappresentativa diventi tecnocratica, cioè besata più su presupposti, diciamo, ruoli, che su rappresentanza vera di popoli. Si può essere più o meno d'accordo? Io, per esempio, sono un antidemocratico convinto, quindi per me va bene che Hasselborn conti quanto Salvini. Mettiamola così, però voglio vedere chi mi segue su questa mia antidemocrazia. Mettiamo così, che votano soltanto, non so, gli intelligenti, chi lo stabilisce, i colti, chi lo stabilisce, i laureati, basta i laureati, beh, insomma, quello che succede in Europa è che se tu sei il ministro degli esteri del Lussemburgo, 100.000 abitanti, hai lo stesso valore che sei, che tu sia 100.000 abitanti tutti concentrati su un sistema bancario creato dall'ex presidente lussemburchese Juncker grazie a holding opache, scarsa trasparenza delle informazioni finanziarie, sono 500.000 in Lussemburgo, scusatemi, e regimi fiscali che fino a poco tempo fa erano del tutto agevolanti. Questo per quanto riguarda la lite sui migranti, nel frattempo continuano a sbarcare in Italia come è normale i migranti. Poi, seconda notizia che mi sembra invece è un gran ducato, ma anche un principato qualcuno dice, vabbè, ma i duchi in Italia erano addirittura più rari e più importanti dei principi, soprattutto in Toscana. Ma il punto fondamentale è che il governo giallo-verde si può e si deve criticare, come tutti quanti i governi, ma su quello che fa o che non fa. Ieri, a 30 giorni dalla tragedia del ponte Morandi a Genova, 503.000, avevo sbagliato, 500.000 sono gli abitanti di Lussemburgo. Ieri, comunque una città italiana, in concomitanza con i 30 giorni, con il mese dal decreto, dalla caduta del ponte Morandi, il governo che si presentava e a me questo mi fa venire il sangue al cervello, tutte queste celebrazioni, va in chiesa il giorno dopo, Conte va lì e piange, ma chi se ne frega, non piangete, non dovete piangere, dovete fare qualcosa. Io ho questa idea di tutti questi politici, questi scrittori, questi giornali, questi fiori che vengono messi là, questo Twitter, tra l'altro poco in questo caso, che cacchio vi avete da celebrare? Non si celebrano i morti, si cerca di fare qualche cosa per i morti e questi pensavano di andare lì a celebrarli col decreto Genova. Cosa c'è in quel decreto Genova? Zero! Niente! Oggi Repubblica, Corriere, ma tutti quanti giornali, tutti, neanche il Fatto Quotidiano, cioè il giornale del Movimento 5 Stelle riesce a trovare alcunché in questo decreto, per esempio, quello di nominare una persona responsabile di tutto il procedimento, che è quello da cui parte tutto, sono gli uomini che portano le soluzioni, non sono le soluzioni che portano gli uomini, non c'è un commissario straordinario per la ricostruzione, c'è un commissario straordinario per l'emergenza, non lo vogliono fare per la ricostruzione. Non so chi oggi, qualche giornale, notava, forse il Corriere della Sera, che c'è un bel problema. Sapete qual è il problema? Il problema è che la Lega lì è alleata col Sindaco e con il Presidente della Regione Bucci e Toti, che vorrebbero fare, se ne fregano, delle questioni ideologiche, autostrade sì, autostrade no, vogliono che si diano soldi ai cittadini e che si rifaccia il ponte. E dall'altra parte, invece, a Roma, la Lega è alleata con i nemici di Toti e Bucci, cioè col Movimento 5 Stelle sconfitto proprio da Toti e Bucci, quindi con quel Toninelli e con quell'altra parte del governo, che invece vuole dare un segnale politico e quindi questa specie di un pass, chi la paga? Genova, la viabilità di Genova, gli abitanti di Genova e il porto di Genova e gli affari di Genova e il PIL italiano, ma quello non ricorgeremo nei prossimi anni, quindi zero decreto. Lunedì io avrò, come si chiama, Toninelli, ministro dei trasporti e delle infrastrutture alla prima puntata di Quarta Repubblica e cercherò di chiedere a Toninelli, Toninelli, ma cosa cercate di fare con questo decreto? Non avete neanche trovato un commissario? Figuratevi voi, non vi mettete d'accordo su un commissario o vi mettete d'accordo su un ponte? Travaglio oggi, ridicolo e disgustoso, rivendica la cacciata di Nava, presidente della Consob, che a me sta simpatico? Zero. Non ho simpatia nei confronti di questo burocrata europeo che è arrivato in Conso, però ho simpatia nei confronti di un principio che spesso ci ha spiegato anche con questa rietta susseguosa il fatto e non solo, e cioè che si rispettano le autoriti indipendenti, se no che autoriti indipendenti sono? L'idea di aver fatto fuori il presidente di un'autorità indipendente dice Travaglio, vedete quanto il nostro piccolo giornaletto nato nove anni fa conta? No, non conta, voi siete gli strilloni del Movimento 5 Stelle che in maniera allucinante con la Lega toglie un funzionario europeo che a me non piaceva ma che comunque era stato legittimamente, bisogna garantirne il ruolo, non la persona, e il ruolo è più importante della persona, voglio vedere adesso chi sceglieranno a presenza della Consob questi fenomeni, insomma l'hanno fatto fuori, ne parlano tutti i giornali ovviamente ma con quella rietta un po' così di ormai di rassegnazione. Titoli di Stato su 2340 miliardi di euro di debito pubblico i titoli di Stato detenuti da stranieri sono scesi al 28%, cioè a 713 miliardi, 2 miliardi è tra il debito, 700 miliardi lo hanno gli stranieri, voi dite bene, meno soldi ci prestano gli stranieri e più siamo indipendenti dalle loro bizzarrie, questo è vero ma se non fosse, e sono convintissimo che sia giusto, ma se non fosse che una volta che quei titoli non li comprano gli stranieri ma noi dobbiamo continuare ad emetterli, emetterli, emetterli perché non riduciamo il debito e il deficit, quel mutuo lo facciamo pagare agli italiani e alle banche italiane che cercano di ribaltare su di noi il prezzo di questi prestiti che fanno e noi stessi aumentiamo il nostro rischio nei confronti di un debito che cresce, quindi saremo meno dipendenti dagli stranieri, siamo più dipendenti noi italiani perché siamo noi che ci paghiamo quel debito stile giapponese, ma attenzione che se un governo continuerà a spendere, a aumentare il debito e a rompere gli equilibri poi a pagare alla fine saremo soltanto noi, cosa giusta e sacrosanta. Bella l'ipotesi di questi CIR, un nome orrendo che sarebbero questi nuovi certificati che secondo un'ipotesi della Lega, secondo me sacrosanta, saranno detassati, cioè tu non pagherai neanche il 12,5% sugli interessi che ogni titolo di Stato ti riconosce e addirittura avrai un credito d'imposta, una sorta di PIR-CIR, lo vedremo nei prossimi giorni, si entrerà in manovra, bisogna che tu ti metti in regola, non puoi dire che sei imparziale e poi vai a fare il tuo, qua qualcuno dice che sono imparziale, io non sono imparziale per niente, chi cazzo ha detto che sono imparziale? Io sono la persona più parziale del mondo, chiunque abbia visto la zuppa negli ultimi 5 anni sa perfettamente che io di imparzialità non mi sono mai ammantato, io sono parzialissimo e ve lo dico tutte le volte, scrivo nome e cognomi di quello che mi sta simpatico e antipatico. Genocidio dei cristiani, per fortuna che Meotti c'è oggi sul foglio, ci spiega come in Iran e in Siria ci sia stato un vero e proprio genocidio di cristiani di cui poco se ne parla. L'ONU secondo qualcuno dovrebbe occuparsene, ma come nota Meotti l'ONU si occupa soltanto di dare sanzioni a Israele che guarda caso in Medio Oriente è l'unico paese in cui è aumentato il numero dei cristiani, va bene? Il numero dei cristiani è aumentato in Israele mentre noi lo bastioniamo. L'ultima questione riguarda, le ultime due questioni riguardano la manovra dovrebbe essere di 30 miliardi, si stanno litigando Lega e Movimento 5 Stelle, entrambi vogliono intervenire sulle pensioni, la Lega vorrebbe quota 100, cioè si può andare in pensione se hai 62 anni e 38 di contributi o se hai almeno 41 anni e mezzo di contributi. Invece Movimento 5 Stelle vorrebbe la pensione di cittadinanza, cioè le minime portate a 780 euro. Troveranno i soldi e la trattativa che faranno in questi giorni con Tria. Ultima cosa riguarda Veneziani sul tempo che oggi fa un articolo contro Lilli Gruber che dice in una sua articolo sulla 7 tutti i populismi mentono, sono pericolosi opportunisti, allora lui si dice offeso di questa parzialità di Lilli Gruber, io non mi sento molto offeso, bastava guardarla negli ultimi anni e piagnucola Veneziani che non è da per suo, tutti i media sono contro i populisti, anch'io non amo molto i populisti ma questa idea che loro siano contro tutti i populismi è una cosa orrenda. A parte il fatto che non è vero che tutti i media sono contro i populisti e quindi magari i veneziani potrebbero accettare qualche invito dai media come il mio che i populisti non sono, che i populisti sono secondo l'accezione di Lilli Gruber, perché noi abbiamo parlato di occupazioni, di immigrazione, molto prima della nascita di Quarta Repubblica, l'abbiamo fatto in Matrix, l'abbiamo fatto in Virus, quindi bene attaccare Lilli Gruber, ma questo piagnucolare che non ci sono media contro è una cosa che mi sembra ridicola, ma l'altra cosa che non è sopportabile è Veneziani, scusatemi, dove scrive su un giornale come il Tempo che non mi sembra che abbia un atteggiamento populistico, ci sono giornali come il giornale, c'è la Verità, c'è il Libero, chi se ne frega se Repubblica e Corriere della Sera e la Sette sono populisti, ma chi se ne frega, antipopulisti, legittimo che lo siano e noi stiamo lì a fargli un mazzo così dalla mattina alla sera, ma non si dice media, sì media, media, intanto Nicola Veneziani è sempre interessante, certo che è sempre interessante, proud to be populist, Gruber, insomma non andiamo sulle questioni fisiche che mi interessano poco, se vi piace questa zuppa condividetela, io vi dico a tutti quanti lunedì sera, lunedì sera per l'unico programma che non è vero che non ha le piazze, ma che ha un giornalista che è andato in piazza, quella che io chiamerei la Quarta Repubblica, lunedì sera alle 21.30 su Rete4, chiaro? Ciao!